brichine brichine buon anno ancora buon 2021 mi sentirete di essa frase probabilmente per i prossimi 5 6 video non lo so lasciamo stare ragazzi siamo tornati con un nuovo episodio di sete potere siamo sempre insieme a mello ea miriana siamo a 614 trofei su sete oggi come ricercati giochiamo in parateria dei serpenti diciamo che le ultime tre sono a te male ma male ma male 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 perché ieri che non abbiamo registrato abbiamo fatto tre sconfitte su tre quindi oggi dobbiamo per forse cose riscattarci non ce n'è la comp di oggi è tara boh e io ho la psicopatica o shelly l'idea è spaccare tutto e come solito trattare di fare il devasto io spero di arrivare a 700 vorrebbe dire fare tre vittorie non lo so comunque vediamo un po come va lei pronta lui è pronto io sono pronto ragazzi senza indugio con segugio andiamo a vedere la prima partita con chi ci ci matcha vediamo un po con che match up quando vuoi grazie mille gioco molto gentile a parte sulla piper stranger fins stranger stranger bene tu muori immediatamente ah lag mamma mia che lagato mi ha tirato mamma mia buono 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 dai comparsa è comparsa a nulla schifosa ok buono 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 abbiamo fatto devasto io purtroppo la star power che ho non è la migliore dovrebbero la seconda io quella lì che mi dà un po' di vita quando sono quasi morto però ehi non ti permetti bello bello al pelo 22 8 22 8 non male non male non male non male via scappa di lena vattene va bene va bene va bene va bene la prima andata vittoria più 30 trionfo epico più 33 siamo 647 ok diciamo che la prima non è stata proprio giocata benissimo da parte mia e devo essere sincero con voi però oh brutta faccenda tosta anche questa eh buona mello è morto nel mentre mannaggia dai queste cavoli bombettine mannaggia la pupazzola ok è errato qua il tipo bella ulti bella ok devo riprendere un po' di vita eh vattene rompiscato che non sei altro grande miri grande grande peccato che avevamo stati tutti e due tutti i tre one hit però vabbè questi sono dettagli tecnici eh eeeh la peppa che cosa è successo dai che one hit 12 15 grande miri vattene vattene e no stavolta ho mai preso eh ma è rallentato un po' come è stato da rallentarmi ma mi ha rallentato però non l'ho mai preso occhio No 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 Bello grande ... Grandissimi Grandi 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 qui ha fatto io non so per quale motivo l'ha dato Ramello perché Mira ha fatto quelle due volte con la ulti pazzesco però va bene 6-7-7 3-1 vai ti prego compo uguale a nostra identica uguale a nostra va bene va bene uguale a nostra va bene niente niente loro possono fare quello che vogliono non mi carico la ulti mmm ok Mira ne ha già fatti fuori due tre addirittura credo occhio 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 ne ha già pazza questo non questo è stato brutto eh questo è stato non è stato massimo della vita ok la ulti ce l'ho pronta occhio qua no 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 mello questo questo non Dovevi farmelo bello, mello, mello. Peccato, peccato, peccato. Perché mi spari io? Decidetevi ragazzi. O pusho o non pusho. Non posso fare metà e metà. Eh, avete detto voi. Non pusciare? Ragazzi, io devo pusciare adesso. Eh, io più di questo non potevo fare. Vabbè, fa niente. Due su tre. Due su tre va sempre bene. Peccato perché potevamo fare i 700. Però vabbè, due su tre non è andata male. Siamo a 682. Poteva andare meglio? Forse poteva andare peggio? Sicuramente. Ragazzi, io vi ringrazio come al solito per la visualizzazione. Vi ricordo di commentare. Lasciate un mi piace. Con un video di iscrivervi. E attivatevi per attivare la campanellina. Dato questo vi saluto qua. E come al solito. Addio e grazie per il pesce. Buon anno ancora! Ciao! Grazie a tutti.